Vi presento Random, questa libreria innovativa. Dall'idea di una struttura totalmente regolare nasce nel 2005 Random, realizzata per MDF Italia da Neuland Industria Design. La filosofia dello studio è di rendere contemporanea e tematica del passato. Ciò permette di rivoluzionare la funzionalità di ogni progetto per arrivare ad una nuova espressione estetica. Cosa è Random? Random è sinonimo di innovazione, funzionalità e contemporaneità. Un nuovo arredo che ha rivoluzionato il concetto di libreria, trasformandola in scultura di design. Realizzata inizialmente nella tonalità bianca, adesso è stata declinata in diverse varianti di colore e con diverse dimensioni. Caratteristiche principali di questo prodotto sono modularità e versatilità. È possibile inserire Random in una molteplicità di spazi abitativi enormi. Connubio tra armonia e caos, ordine e disordine. Un prodotto assolutamente rivoluzionario. È realizzata con pannelli di fibra di legno a media densità, laccati opachi, mentre i ripiani, posizionati nelle diverse altezze predefinite, sono inseriti nelle spalle tramite fresate a coda di rondine invisibili. Questa fantastica libreria nel 2005 ha rotto gli schemi. Fino a quel momento tutti presentavano librerie con ripiani lineari perfettamente allineati. Random è diventata precursore per far rompere gli schemi anche agli altri. Questa libreria va bene sia in ampi spazi che in spazi ridotti, angusti, perché continua a mantenere la sua personalità anche nelle piccole dimensioni.